e arriviamo rapidamente agli eventi che poi un po' avviciniamo agli eventi che cominciamo a conoscere tutti, cioè che cosa succede a un certo punto per cui scoppia una grande guerra fra arbi ed ebrei in Palestina, cioè la guerra del 1948, ripeto siamo arrivati al 1939 con gli inglesi che cercavano di mediare, gli inglesi a quel punto capiscono dopo pochi anni che non ce la possono più fare a reggere la situazione, nel frattempo in Europa è scoppiata la seconda guerra mondiale, c'era la tragedia dell'olocausto, c'era la tragedia delle persecuzioni naziste e quindi bisogna darsi da fare, in qualche modo districarsi dalla situazione, gli inglesi decidono di rinunciare al mandato nel 1947, ma a quel punto era già accaduta una cosa che poi segnerà la storia di tutta il conflitto israelo-palestinese, a quel punto già era accaduto che 250.000 palestinesi erano stati cacciati dalle loro terre e centinaia e centinaia di villaggi erano stati bruciati, erano stati rasati al suolo e cominciavano ad essere ricostruiti come proprietà ebraiche, l'esercito di Israele si era formato in gruppi, la Gana era l'esercito ufficiale, poi c'erano i gruppi chiamati, non cosiddetti, ma chiamati proprio anche dagli altri commissari inglesi del tempo, gruppi terroristici che fecero proprio attività di terrorismo puro e cioè l'Irgun, lo Stern e il gruppo paramilitare del Palmac. Per questo si erano già organizzati al punto che avevano già cominciato a cacciare le palestinesi dai loro villaggi e ne avevano svuotati per 250.000 esseri umani all'arrivo del 1947. questi avvenimenti che molti di noi non conoscono neppure oggi erano già conosciutissimi allora e vi cito fra tanti una dichiarazione di Albert Einstein e di Anna Arendt che è un'autrice che è conosciutissima quando si parla di holocausto, quando si parla di identità ebraica eccetera. Loro pubblicarono su New York Times nel dicembre del 1948 una lettera dove chiamarono letteralmente, chiamarono letteralmente la nascita del Partito della Libertà di Menachem Beking, e Menachem Beking sarà primo ministro di Israele, diventerà molto noto ed era un terrorista, membro dell'Irgun che fece atti di terrorismo, stragi, vere e proprie, chiamarono il Partito della Libertà di Menachem Beking un'organizzazione nei metodi e nella filosofia politica e nell'azione sociale con apparentamenti stretti ai partiti nazisti, nazista e fascisti. Cioè questo era chiaro ad Albert Einstein, a Anna Arendt e ad altri intellettuali ebrei americani nel 1948. Cioè se nel 1948 arriviamo ad una dichiarazione di questo genere c'è da pensare, ma nel 1948 alla nascita dello Stato di Israele arriviamo ad un'altra dichiarazione che deve fare pensare ed è quella del ministro dell'agricoltura del neonato Stato di Israele, Aaron Cisling, il quale Aaron Cisling nel 1948 scriverà in un documento riservato in una regione di gabinetto, scriverà anche gli ebrei oggi si sono comportati come nazisti e tutta la mia anima ne è scossa. Ora che cosa era successo per far dire a queste persone ad Albert Einstein in America e a Aaron Cisling in Israele, fragili così gravi, cioè a distanza di due anni e mezzo dalla fine dell'orocausto, comparare i sionisti e addirittura i nazisti, già allora che cosa era successo? Era successo che Ben Gurion da anni, ripeto già dalla fine degli anni venti, 1930 Yossi Weiss aveva preparato questa lista di villaggi da evacuare e da distruggere, Ben Gurion aveva creato una cupola di uomini, ci saranno molti nomi in questa cupola che saranno famosi negli anni a venire perché diventeranno i personaggi importanti in Israele come Iksa Rabin, come Iksa Pundak, come Moshe Dayan, Moshe Carmel, Yossi Weiss, l'ho già detto, Igal Alon, un altro eccetera, Igal Yadin, uno, ok, la cassetta è bellissima che sei, 25 questa, ah vabbè, faccio il taglio, ripeto, uomini che diventeranno noti nella storia di Israele anche dopo, creò questo gruppo che pianificò a tavolino in un posto che lo storico di cui l'ha identificato e chiamato la Casa Rossa a Tel Aviv, pianificò dettagliatamente la pulizia etnica della Palestina, con citazioni e dettagli che sono orripilanti e di cui ve ne leggo solamente uno per chiarirvi esattamente qual era l'intento di questa pulizia etnica della Palestina. Allora, la citazione che leggo è di Ben Gurion, padre di Israele e capo di questo gruppo che aveva pianificato la pulizia etnica della Palestina e come l'aveva pianificata, ecco come. C'è bisogno di una reazione brutale e forte, dobbiamo essere accurati sui tempi, sui posti e su coloro che dobbiamo colpire. Se accusiamo una famiglia, dobbiamo fargli del male senza pietà, donne, bambini inclusi, altrimenti non è una reazione effettiva. Durante le operazioni non c'è bisogno di distinguere fra innocenti e colpevoli. Allora, questo era lo spirito che animava in quegli anni, fino ad arrivare appunto alla guerra del 1948, la pulizia etnica della Palestina. Furono fatte cose inimmaginabili, stragi, addirittura si arrivò Efraim Katsir, che diventerà presidente di Israele, pensate, arrivò a lavorare in laboratorio per trovare un veleno per accecare i palestinesi e nel giugno del 1948 raccomandò l'uso alle truppe della Ghana in guerra appunto per espellere i palestinesi dalla Palestina. Stragi di stampo completamente neonaziste, e lo devo dire, purtroppo il termine non è da esagitato, da fanatico o da antisemita. Sono stragi neonaziste, Aaron Cisling, lo ripeto, Albert Einstein usarono il termine nazista per definire quelle condotte. Stragi come quella di Ain al-Zaitun dove un capo tribù arabo protestò con l'esercito ebraico per il trattamento che gli veniva riservato, fu schiaffeggiato e gli fu ordinato di raggruppare 30 adolescenti nella piazza del paese. I 30 adolescenti furono tutti ammazzati davanti ai palestinesi per punizione di fronte per l'affronto che questo arabo aveva osato fare all'esercito ebraico perché richiedeva semplicemente un trattamento umano. Queste sono stragi di stampo neonazista. E ne fecero tante. La strage di Der Yassin è particolarmente nota ma è anche particolarmente odiosa perché la Ghana, l'esercito ebraico, aveva promesso agli arabi di Der Yassin di non toccarli in cambio di una resa. E quando decisero di sterminarli, la Ghana non se la sentì di entrare dentro al villaggio a sterminarli e ci mandò l'irgun di Menachem Begin. E questo facevano. Allora voglio dire, siamo di fronte ad avvenimenti più che atroci da questo punto di vista. E le stragi che vennero fatte in quegli anni sono infinite. Uri Milstein, storico del militare israeliano, scrisse testualmente che praticamente ogni scontro con gli arabi si trasformava in una strage di arabi. Questo lui lascia scritto testualmente. Ripeto, si stava parlando di una pulizia etnica di persone disarmate, non della guerra arabo-israeliana che vedremo dopo del 1948. Semplicemente una pulizia etnica di persone totalmente disarmate. Già 250.000 arrivare al 1947 e poi diventeranno 750.000 senza contare i morti negli anni successivi.